A un mese e mezzo dall'apertura del nuovo anno scolastico 2021-2022, che si spera sia più tranquillo rispetto all'anno passato, arriva la conferma che il Green Pass sarà obbligatorio per docenti e personale della scuola. In Puglia comincerà il 20 settembre e terminerà il 9 giugno. Per quanto concerne la condizione legata ai vaccinati nel mondo scolastico, sono appena il 6% delle unità e in caso di non Green Pass si rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per l'assessore regionale alla sanità all'Opalco, la Puglia continua ad essere tra le prime regioni italiane per capacità vaccinale e di questo va dato atto agli operatori sanitari e della protezione civile. Intanto sono 5 milioni le dosi di vaccino somministrate in Puglia. Mimmo Siena, Ordios 24.